video a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale allora oggi è tornato francesco anche se non se ne è mai andato nel mio cuore oggi ci porta la sua deck profile di dragon maid il mio mazzo preferito io non mi allargherei con queste parole considerando che c'è delle ragazze che fanno lavori in casa sono bellissime il best mazzo waifu e oggi sono venuto a prendere da lui eso sorella per me non è la best sai per me la best è lei ma ci avrà 130 anni quella è però un po zundere sta lì un po ti odia mi piace allora dragonzella il best mazzo waifu che attualmente quando vedete questo video ci saranno belli che in giri bestial però io l'avevo portato ai local prima dell'uscita dei bestial ho deciso di una lista che non funziona no 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 è una lista pura e cioè se devi comprare i bestial i giochi con un altro mazzo lo giochi con despia lo giochi con dragon link però se sei un fan come me delle maid questo è il video che fa per te comunque iniziamo le tre camere più con poi dragonzelle perché non si vedo in giro ogni volta che al local la gente mi chiede giustamente gli effetti lei quando entra cerca la magia d'archetipo o la trappola d'archetipo che sono due e due magie e una trappola che poi vedremo tre salotto che è il secondo starter lei lo starter più forte da vedere insieme a un'altra dragonzella lei è il meno forte ma riesce a combinare e lei ti fa da foolish di una carta d'archetipo forte lei è quella che non vuoi vedere ma la gioco comunque in due copie perché come poi vedremo gioco small world che mi fa cercare praticamente ogni dragonzella quindi mi serviva da vedere almeno un'altra cucina ea e la cucina ti fa aggiungere una carta d'archetipo mostro e e poi te ne fa mandare una dalla mano al cimitero lei monocopia che è il più palo di tutti lo vuoi solo cercare ed è da ti fa dare born di un mostro dragonzella di livello 4 o inferiore comunque non era lei la best wife tua perché c'è capelli rosa si è vero adesso che la riguardo soprattutto quella secret dall'art non censurata questa carina e io chiederei a giovanna e questi sono i mostri poi ah no i mostri cioè queste sono le baby le versioni piccole perché hanno 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 tutte l'effetto di durante la battle rimbalzano in mano si rimbalzano in mano e ti fanno evocare loro o da mano o da cimitero quindi tu praticamente soffri tantissimo shifter e vuoi comunque che tutte le risorse stiano al cimitero perché poi te le puoi ciclare facilissimamente lei e loro sono praticamente gialli perché non li useremo mai lui forse un po per roticappare ma rarissimamente se usa l'effetto lei più forte perché lo scarti dalla mano e ti fa fare special di una dragonzella e si rimbalzano rispettivamente lei fa da jolly quindi si rimbalza e può specialare una d'este tre e le altre invece vanno con i loro colori quindi la salotto va con l'avento e così via la cucina con la rossa e lei la rosa con la rosa molto chiaro poi gli ultimi due draghi che servono sono noctovision che anche questi li puoi mandare di di piccolo mondo servono per farti fare per farti fare le cosiddette palle e ti fa pescare uno quindi due vanno bene tre sono troppi non hanno senso poi magie d'archetipo tre ospitalità e la polimerizzazione d'archetipo che si rimbalza sempre facendo rimbalzare targettando dimmi no non lo fate tutte così no solo queste ho fatte così al contrario ok ok scusate dicevo polimerizzazione d'archetipo che è più forte di una poli normale perché una volta al cimitero targetto un mostro sul dragonzello sul terreno lo rimbalzo in mano e le ritorno in mano e l'effetto once per turn è quello solo di rimbalzare perché sennò volendo se ce ne hai tre copie la puoi utilizzare tre in un turno e poi le tre trappole le fortissime perché per chi non le conosce cioè si giocano anche in dragon link non credo ci sia tanto a dire se ti targhetti uno un drago da te uno dall'oppo e rimbalzi e poi da cimitero band bandendola ti fa evocare special una dragonzella o da mano o da cimitero quindi forte anche se la mandi con con salotto mandi lei insomma riesci a aggiustare le mani poi reparto peschini diciamo o non il contrario tre piccolo mondo ti cerca sempre dragonzella che ti serve anche perché poi vedremo che oltre alle dragonzelle che sono praticamente lei che il livello 3 ed è la il secondo starter più forte te la cerchi mandando per esempio bell o ash quindi forte e con ash ti puoi cercare tipo con bell che anche terra ti puoi cercare infermiera insomma vedi quello che ti serve e small world t'aggiusta sempre la mano poi tre prosperity perché senza prosperity non lo giocherei perché se giochi extravagance c'è bisogno di pescare se giochi extravagance te banni sicuramente la negazione e quindi non ha poco senso è reparto going second facciamo entra prima si ma questo nemmeno così tanto perché vabbè tre ash standard comuni da structure tre belle comuni da structure c'è perché ce l'ho francesi ultra e non le volevo giocare francesi e quindi vabbè comuni poi vabbè tre imperma inutile spiega ste carte sempre una povera ovviamente a tutte la struttura anche imperma imperma da structure cyber drago certo chiaramente comprato da il cappello di paia me davvero si l'ho preso no no l'interno lo strutture no quello da cyber drago vabbè comunque poi altra carta fortissima incredibile assoluta la devono limitare bannare no però limitare sì almeno a due perché non ha senso io ho tirato due super poli in un turno un poverino al local con giocava despia e io ho fatto prima drago velenoso e poi io ci ho fatto sta pelia cioè io ho finito le carte in mano perché dovevo manda uno di costo però lui insomma non c'ha più la board quindi forte e poi la carta sempre più forte con led speriamo non torni a tre però ecco finché c'è finché c'è ma è forte in generale non è solo forte ormai contro le entra perché tanto tutti i mostri che giocano a cimitero è forte extra deck un rateo due due lui è l'omni negate che si rimbalza sempre si ricicla l'unica perché non c'ha nient'altro è l'unica omni negate però tu vuoi intavolare perché lui come effetto c'ha che oltre a essere omni negate durante ogni stand by evoca special una dragonzella quindi tu intanto inizi a prendere risorse una volta che attivi l'omni negate lui si rimbalza nell'extra ed evoca governante governante ogni volta che si rimbalza una carta non per forza d'archetipo esatto no non mi ricordavo se ok ogni volta che si rimbalza una carta lei spacca un mostro dell'avversario quindi una volta che tu hai fatto la negazione grossa che è lui che devi tirare al momento giusto hai evocato lei hai sicuramente un altro dragonzella che poi magari in battle puoi far rimbalzare o puoi far rimbalzare con la trappolina e alla fine riesci a insomma ci ho vinto nel senso ha funzionato ha workato all'ultimo local anche contro poi forte perché non soffre mina giocato contro sky striker con mina poverino la lasciamo stand non era il vabbè non era non era il no però era una lista sky striker con mina cioè giocavi in mina però io mina non la soffro cioè entra entra shell e lui dice ciao perché sono uno e uno quindi quindi forte contro mina poi i target di super poli vabbè finché c'è super poli sono forti poi passiamo i link che la maggior parte delle volte li prenderai da qui gli scarti dei prosperity c'è da prosperity levi un po da super poli di solito lui in base a chi c'è contro poi due palle perché rimbalzano e perché poi evoca special tributando lui quindi forte sempre poi link 1 per mandarsi via qualsiasi anche se c'hai giochi con salotto metti salotto fai link 1 c'hai magari noctovision in mano evochi nocto e fai palle quindi forte lui mai fatto lo vorrei togliere però l'avevo visto contro me l'aveva giocato 1 su un simulatore ho detto cavolo figa sta carta ma l'ho utilizzato ti fa fare special di un drago grosso quindi fai link 2 evochi un drago grosso al cimitero sempre mandato di prosperity poi la diciamo quasi trinità e accesso ma è ma cerbero non la usi come scaletta però capito fai link 2 link 3 e poi lui se volevi fare cose fatte per bene se c'è felice unicolo unicorno è vero però un luce mascherina cerbero non ce l'ho cerbero non ce l'ho ma non serve non serve va beh in realtà l'ho utilizzato solo una volta e mi ha fatto anzi due volte e mi ha fatto vincere una volta era tipo quasi al tempo e all'avversario che giocava pendolo gli rimanevano 5.300 life points io ho fatto lui access con unicorno era 5.300 precisi quindi quindi vinta ecco fine e niente questa è la mia lista troppo forte se avessi soldi comprerei bistial e la proverai con bistial però l'avevo provato anche con albaz con albaz non mi piace con bistial mi piace un po' di più ma sperimento che io vissi io l'avrei venduta 10 euro poi non la comprare non è vero mai ho venduta 10 euro sì ma è ma l'ubellion andrebbe giocato eh quindi niente quindi questa è la lista adesso niente non bisogna giocare perché c'è ishizu con tierlaments quindi boh state a casa e vedete un film su netflix con la ragazza meglio meglio di sto meta diciamo no proverò exorcister proverò exorcister per provare a ribaltare no no poi poi basta che lo dici che cioè se vuoi stare a casa a guardare il film con la ragazza tua va bene basta che prima mi fai exorcister esatto prossima decklist sarà una smr di fluffalo di esosorella e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto perché altrimenti non lo chiamo più no è vero è l'unico che mi porta le decklist quindi per forza mi serve decklist brutte giusto ho solo i soldi per le staple per le basi massolo le voglio spedre i soldi vi ricordo come sempre che se volete supportare questo video vi basta solo mettere mi piace iscrivervi poi qua sotto c'è twitch in descrizione che se volete c'è il follow e il prime che è gratuito anche il sui ban no sto scherzando quindi ragazzi state mesi e noi ci rivediamo quando me va con un nuovo video quando me va ok è perché adesso sto facendo un video il giorno poi questa settimana prossima passerà almeno una settimana ok ok ci sta ci sta con un nuovo video ciao ragazzi